Do il benvenuto con grande piacere nei nostri studi a Fra Raffaele Di Muro, docente di spiritualità. Pace bene Fra Raffaele, grazie. Pace bene, ben ritrovata. È bello ritrovarsi qui oggi, anche perché vogliamo parlare di un sacramento, forse del sacramento per eccellenza, quello dell'iniziazione cristiana che è il battesimo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato e che ascolteremo nella giornata di oggi è quello del battesimo di Gesù, in quanto oggi la Chiesa ricorda il battesimo di Gesù. Domanda forse, spero non scontata, è una cosa che probabilmente ci siamo chiesti un po' tutti. Ma perché Gesù? Perché quell'uomo di Nazareth vuole essere battezzato? Ecco, diciamo che il battesimo di Gesù è una manifestazione, è una delle prime manifestazioni di Gesù. Dunque, il perché sta proprio in questo suo pubblico ingresso nella vita degli uomini. Uno di quegli eventi, ad esempio le nozze di Cana è uno di questi, attraverso cui Gesù inizia a manifestarsi nel panorama così degli uomini, nella vita degli uomini. E quindi questo episodio va inquadrato così, come una prima grande significativa manifestazione del Signore. E quell'uomo, sempre Gesù, si mise in fila con i peccatori per un battesimo di penitenza? Sì, era un battesimo di penitenza. Vedi, anche questo gesto è molto simbolico, come anche il fatto che Gesù si immerge nelle acque, sta nelle acque dove si trovano tutti i peccatori. Questo è l'espressione del suo prendere su di sé il peccato del mondo. Molti commentano, molti autori commentano questo brano proprio in questa ottica. Gesù sta con loro e quindi questo suo stare nella medesima acqua dove ci sono coloro che chiedono perdono per i loro peccati, vorrebbe proprio significare questo, è un prefigurare proprio il fatto che Gesù prende su di sé il peccato del mondo. E dunque è un prefigurare poi quella che è la redenzione, la salvezza dell'umanità. Gesù prende su di sé il peccato del mondo. A questo punto ti chiedo se noi siamo pronti a sporcarci con, a farci carico del peccato degli altri. Diciamo che secondo me il nostro cammino è un po' più egoista sotto certi aspetti. Noi siamo portati a vedere il peccato degli altri prendendo le distanze dal peccato stesso e magari dalla persona stessa. Abbiamo qui un esempio meraviglioso che è quello di Padre Pio che viene considerato il novello Cireneo, cioè colui che è raffigurato in molte immagini, come colui che porta la croce con Cristo. In fondo l'esempio di Padre Pio va proprio in questa direzione, cioè come dici tu, sporcarci le mani non vuol dire diventare noi stessi peccato, ma in qualche modo vuol dire farci carico, interrogarci, capire il perché e cercare di capire come molte persone potrebbero uscire dal peccato. Ecco, in questo senso noi siamo un po' egoisti, prendiamo le distanze, invece dovremmo considerare coloro che sbagliano, posto che anche noi sbagliamo, come persone che vanno aiutate, vanno sostenute. Prendere le distanze significa sì, magari essere un po' anche arrabbiati verso le situazioni di peccato, però non dimenticare mai che c'è una umanità che avrebbe bisogno di essere liberata da quel peccato. Ecco, quindi noi come comunità, come chiese dovremmo essere più presenti lì dove c'è un'umanità che soffre, che ha maggiormente bisogno. Vorrei raccontarti un'esperienza personale. Io, tu sai, insegno teologia, ma mi è capitato per qualche mese di sostituire un confratello che è il cappellano del carcere. Era la prima volta che facevo quel tipo di esperienza e ti devo dire l'ho affrontata inizialmente con una certa paura, perché mi interrogavo sul carattere o sul modo di agire delle persone che avrei incontrato. In realtà è stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, perché ti mette a contatto con la povertà umana. Tu vedi persone potenzialmente buone anche, che però a un certo punto della loro vita hanno perso la bussola, hanno sbagliato, sono capitate in situazioni difficili e dunque hanno commesso anche dei crimini. Però è bello poter far rinascere anche questa umanità e quando riuscivo in qualche modo, attraverso una confessione, attraverso un dialogo, a far capire che esistono anche delle strade migliori, davvero senti una gioia interiore molto profonda, molto bella, perché in fondo è quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ci dice di fare, cioè in qualche modo di andare incontro anche all'umanità che soffre, perché no, anche per il peccato, a causa del peccato. E questo probabilmente lo possiamo fare solo se amiamo Dio, dovremmo amare veramente Dio al punto da comprometterci, come ha fatto suo figlio, comprometterci per gli altri. Per gli altri, sì, sì, ecco, come dicevi tu, un modo di vivere il nostro cammino, ecco, non in maniera fredda, gelida, distaccata, in qualche modo capire che esistono persone che sbagliano, persone che entrano in dinamiche di peccato, che però non vanno lasciate sole. Bisogna che ci interroghiamo di più anche sulle cause del perché tante persone abbandonano le vie di Dio e magari si trovano poi in percorsi che portano al peccato, portano all'errore. Con la festa del battesimo di Gesù, fra Raffaele, ricordiamo anche il grande dono del nostro battesimo, un giorno che segnò la nostra vita e che dovrebbe farci sentire felici, anche a distanza di tempo. Dovremmo ricordare non solo il giorno della nostra nascita, festeggiamo il compleanno, ma anche il giorno della nostra rinascita. Certamente, in fondo quella è la nascita spirituale, in effetti, perché con il battesimo rinasciamo spiritualmente, siamo rinati spiritualmente con, ecco, diciamo così, una infusione di grazia con i doni dello Spirito Santo, con, diciamo così, l'eliminazione del peccato originale. Ecco, succedono nella persona tanti prodigi che ci fanno veramente rinascere sotto l'aspetto spirituale. Dovremmo ricordare molto spesso il nostro battesimo, quindi insieme al compleanno sarebbe bello poter festeggiare, ricordare anche quando siamo nati o rinati, insomma, spiritualmente. Con la festa di oggi, la festa del battesimo di Gesù, è giusto parlare di festa? Sì, sì. Ecco, la Chiesa ci offre da meditare e chiedere. Come mai il battesimo veniva amministrato da Giovanni Battista prima di Gesù? Che cosa significa e significava essere battezzati dal precursore? Era una pratica penitenziale, cioè chi riceveva il battesimo del Battista semplicemente invocava il perdono sui suoi peccati. Ecco, era semplicemente un rito penitenziale, ovviamente nulla a che vedere con il nostro battesimo. Era un semplice chiedere perdono per i propri peccati, ecco, invocare la misericordia di Dio, ecco, e nulla più. Poi, ovviamente, questo va inserito in tutta l'opera del Battista, che è l'opera del precursore, l'opera di colui che annuncia e prepara l'avvento del Signore. Però, ecco, quel rito era semplicemente un rito penitenziale. E alla luce di questo, che significato assume allora il mio battesimo, il nostro battesimo? Diciamo che, ovviamente, con Gesù il battesimo cambia totalmente, quella che, almeno rispetto a quello del Battista, cambia totalmente volto. Però, vedi, anche nel nostro battesimo rimane, parlavo di peccato originale, parlavo del fatto che quel peccato ci viene tolto. E, in fondo, immagino che anche noi probabilmente col battesimo dei bambini, questo non lo viviamo, non lo vediamo in maniera molto nitida, molto netta, perché il bambino lo consideriamo comunque innocente. Però comunque c'è quella, diciamo, quel lavare, no? La veste bianca noi la mettiamo anche al bambino, portala con, ecco, dignità e mantieni la bianca per tutta la vita. Quindi, in fondo c'è anche, è chiaro, questa dimensione del peccato che viene annullato. Però, ecco, nel battesimo degli adulti, per esempio, è più visibile, ecco, questo aspetto di conversione, questo aspetto penitenziale. Ecco, noi siamo forse più abituati al rito del battesimo riservato ai bambini e lì l'aspetto del peccato si vede meno. Però, per esempio, il rito riservato agli adulti, per esempio, immagino coloro che da altre religioni passano al cristianesimo, si fanno battezzare, lì si vede di più, meglio, questo aspetto della conversione, della penitenza. Tutti noi, che abbiamo la grazia di essere cristiani, iniziamo la nostra vita da figli, in cui il padre si compiace, nel battesimo, con il battesimo. Sì, è il principio, l'inizio del nostro cammino spirituale, e io dico è la base, no, del nostro percorso di comunione con Dio. Vedi, questo è l'anno della fede. Allora io direi che ricordando la nostra fede non si può non fare un accostamento al nostro battesimo, perché in fondo è il primo momento nel quale viene fatta la professione di fede. È vero, nel caso del bambino la fanno il genitore, il padrino, la madrina, però è il primo momento in cui in effetti c'è questo dire di sì, ecco, a quello che è il simbolo della nostra fede, a quello che è il credo. Quindi mi pare molto bello poter sottolineare questo aspetto, un battesimo è anno della fede. Mi pare che abbiamo molto da riscoprire. Fra Raffaele, ricordavi il battesimo dei bambini? Prima, forse parecchi anni fa, i bambini venivano battezzati a distanza di pochi giorni dalla nascita. Basti pensare a Padre Pio che è stato battezzato il giorno dopo. Adesso si aspettano molte settimane. Il battesimo diventa quasi, sì, una festa, però a volte anche una festa laica. Si dà più importanza a tutto il resto, anziché a sottolineare l'importanza del sacramento. Sì, è diventata una festa per larghi tratti anche laica. Normalmente al battesimo si associa il banchetto. Tutte cose giuste. Tutte cose giuste, per carità buone, si riuniscono le famiglie. Magari, voglio dire, si capisse in profondità il senso di quella festa. Veramente ci sarebbe da festeggiare, anche con una certa gioia. Però, ecco, precedentemente, ecco tu citavi l'esempio di Padre Pio, nel passato c'era un altro concetto teologico. Cioè, si portava il bambino al fonte battesimale prima possibile, per due motivi. Prima perché la mortalità infantile era più alta, quindi si temeva il rischio. Poi non c'erano ospedali, magari si partoriva in casa. E poi soprattutto, per un motivo teologico anche, cioè il prima possibile bisognava che il bambino fosse liberato dal peccato originale. Questo era un po' il concetto che subito il bambino doveva essere immesso in questo fiume di grazia, che sono i doni dello Spirito Santo, per esempio. Quindi c'era dietro questa teologia, che in effetti è rispettabilissima. Ecco, probabilmente oggi abbiamo un po', esageriamo nel senso contrario, perché si cerca di mettere insieme più cose, il battesimo, il banchetto, il bambino che cresce, magari diventa un po' più autonomo, si può gestire meglio. E quindi, ecco, è un po' invece dare la priorità al battesimo, senza togliere le altre cose che sono pure cose buone, per carità. Però ecco, dovremmo, come lo stesso accade per la prima comunione, per, ecco, normalmente c'è un, ecco, rischiamo di svilire un po' il senso dei sacramenti, pensando molto agli aspetti, diciamo così, di festeggiamento, che, ripeto, non sono sbagliati. Si riserva più attenzione a quell'aspetto. Esatto, più che all'aspetto spirituale, a quello che succede spiritualmente. Fra la feria, in conclusione, diceva il Cardinale Ballestrero, un grande pastore di anime, punto di partenza per tutti, laici e ministri, e il battesimo, fonte inesauribile che crea nuovi figli di Dio, nuovi fratelli di Cristo, nuove creature. Dal battesimo nasce e si sviluppa la varietà delle vocazioni, dei ministeri, dei carismi, al servizio del regno di Dio. Dal battesimo fluviscono le ricchezze mirabili della Chiesa. Sì, il battesimo, come dicevamo prima, è il sacramento fondamentale, di lì tutto nasce, cioè è la base di tutto il nostro cammino spirituale. La stessa consacrazione religiosa è fondata sul battesimo. Ogni tipo di vocazione, hai citato il Cardinale Ballestrero, è fondata sul battesimo. Quindi dovremmo ricordare spesso il momento dell'inizio del nostro cammino di fede e capire che la nostra vocazione, il nostro cammino attuale, ha delle radici proprio nel nostro inizio battesimale, nell'iniziazione che abbiamo avuto con il battesimo. Dovremmo valorizzare molto di più quel momento, anche perché quello che noi siamo, le virtù che noi pratichiamo, il bene che facciamo, la preghiera che innalziamo al Signore, è anche il frutto di quei doni che ci sono stati dati nel momento del battesimo e che si sviluppano, sono arrivati magari a maturazione. Quindi questo, oltre al fatto, ecco, è fatto bene a citare il Cardinale Ballestrero, ci ricorda il battesimo, anche il nostro inserimento nella Chiesa. Non dobbiamo dimenticare questo. Proprio qualche giorno fa ho amministrato un battesimo e dicevo, attenzione, questo bimbo che battezziamo non è fuori dalla Chiesa, anzi, la Chiesa non è solo il Papa, i Vescovi, i Cardinali, siamo tutti noi. Quindi anche questo bimbo che viene battezzato, da oggi entra a far parte della famiglia ecclesiale. Quindi è bello pensare al battesimo anche come famiglia, cioè, ecco, come inserimento in una famiglia. Quindi quando noi parliamo di Chiesa, sentiamoci tutti dentro per il fatto di essere battezzati. Fra Raffaele, la giornata di oggi, il battesimo di Gesù, questa festa, il Vangelo che appunto ascolteremo, che abbiamo già ascoltato per chi ha già partecipato alla Santa Messa, ci invitano alla riflessione, a riflettere sull'importanza del battesimo e a ricordare anche il nostro battesimo. Quindi credo che anche poi questa nostra riflessione darà degli spunti importanti. Speriamo tanto che i nostri amici possano riflettere su queste parole. Sì, me lo auguro e davvero spero che tutti possiamo riscoprire la bellezza e l'importanza del nostro battesimo. Io rinvio a quella che è la vita di Padre Pio e gli suoi scritti e proprio là dove lui parla del battesimo, riferito a se stesso, riferito a quelli che lui amministrava. Sappiamo tante persone hanno avuto la gioia di ricevere questo sacramento da lui e quindi è bello poter rileggere quello che lui scriveva a proposito di questi sacramenti. Lui amministrava questi sacramenti con una grande cura proprio perché era consapevole del grande dono che in quel momento lui stava a perdonare. Lo stesso vale per tutti i sacramenti, la confessione. Sappiamo anche il battesimo, parliamo del battesimo. Quindi vorrei fare ai nostri amici telespettatori questo rimando anche a rileggere, ormai tutti hanno gli scritti di Padre Pio, l'epistolario ormai è diffusissimo e quindi poter leggere e proprio rileggere quello che lui diceva a proposito del battesimo e dei sacramenti. Bene, grazie Frada Ferre di Muro per essere stato con noi e per essere entrato nelle case degli amici che ci seguono e di quanti poi ci seguiranno anche attraverso il nostro canale YouTube. Grazie ancora. Grazie a voi. E ci fermiamo qui lì nella regia.